Le faccende domestiche allungano la vita, pulire la casa, fare il bucato e spolverare hanno un effetto benefico sul nostro corpo e sono l'equivalente di un intenso allenamento. Lo studio è stato condotto dall'Istituto Rotman di Toronto in Canada. Si è sempre pensato che chi rimane in casa vada incontro a depressione e ansia. Questo studio invece mostra come i lavori domestici possono contribuire al benessere dell'individuo contrastando anche l'insorgenza di patologie neurodegenerative. Fare le faccende di lavori domestici abitua il corpo all'esercizio fisico e mentale e può diventare parte di un progetto riabilitativo evitando così il ricovero degli anziani presso case di cura o ospedale. 30 minuti di faccende domestiche al giorno riducono la mortalità del 28%, mentre dell'89% le sindrome metaboliche. Lavando i vetri per un'ora si consumano 334 calorie, i pavimenti 145 in 30 minuti e così via di seguito. Lavorare in casa in pratica allunga la vita. Le nostre nonne lo hanno sempre saputo. Adesso.